ciao buongiorno a tutti bentornati nel mio canale allora siamo di nuovo qui oggi perché come diciamo come sapete ci tengo così periodicamente a farvi vedere a mostrarvi in questa rubrica che io ho diciamo così denominato una carta alla volta a farvi vedere i miei le mie carte le mie sibille come sapete ho diciamo così iniziato questa serie di video per adesso con le sibille poi in un secondo momento vi farò vi farò vedere tutta tutti i miei tarocchi insomma ecco per il momento ci focalizziamo sulle sibille allora questo è un mazzo di sibille che io possiedo da svariati anni sono un pochettino rovinate come vedete sono di dimensioni piuttosto piccine queste carte se diciamo così le metto a confronto alle sibille del del precedente video potete rendervi conto diciamo della della differenza proprio di appunto di misure oggi vi presento queste sibille che io ho diciamo anche queste da svariati anni come potete ben vedere sono anche parecchio alcune non tutte sono sono un pochettino rovinate sono un pochettino usurate e sono diciamo sibille che in questo caso non non mi dispiacciono affatto nel senso che continuo ad usarle anche se negli ultimi anni devo dire io mi sono appassionata molto di più a quelli che sono i tarocchi però ciò non toglie che comunque le sibille hanno dalla loro diciamo così anche una certa facilità di lettura tra virgolette perché anche voglio dire leggere leggere le sibille richiede comunque uno studio una dedizione però a parer mio rispetto a quelli che sono i tarocchi le sibille sono un pochettino diciamo così più 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 chiacchierone quindi si leggono si lasciano leggere in maniera più 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 facilmente tra virgolette anche da chi si sta approcciando adesso diciamo così a quest'arte allora cominciamo subito con le mie sibille storiche uno dei mazzi storici diciamo della della mia collezione e cominciamo con le prime carte qui abbiamo l'amante la leggerezza dottore malinconia costanza sono carte che io reputo molto belle cioè mi piacciono mi piacciono molto le vedete così ingiallite non non perché abbiano diciamo così un particolare trattamento per renderle per farli assumere un effetto invecchiato ma proprio perché sono vecchie sono sono usurate sono state da me usate davvero davvero molto e per un periodo molto lungo e attualmente anche anche adesso continuo continuo a ad usarle con estremo estremo piacere diciamo ecco allegrezza al cuore il pensiero scusate perché ho preso due carte donna maritata e bel vedere giovinetta superbia amore spero riusciate a vederle a vederle vederle abbastanza bene disgrazia allora queste sono carte che devo dire allora a parte il formato diciamo così molto piccino come vi ho mostrato prima però allora devo dire sono tanti anni che possiedo le ho usate a lungo continuo ad usarle però devo dire rispetto ad altre carte che magari diciamo si sono usurate parecchio in quello che è il contorno ho notato che in questo caso anche proprio vedete anche proprio l'illustrazione si è in alcuni in alcune carte si è si è abbastanza rovinata ecco risulta sbiadita e questo mi dispiace molto però ripeto continuo ad usarle con soddisfazione anche queste sono carte fanno sempre parte della delle sibille e sono molto molto chiacchierine come vedete qui abbiamo già la la raffigurazione insomma della lama e poi abbiamo comunque anche un'indicazione di interpretazione su ogni carta per cui oltre a diciamo così la rappresentazione grafica della lama abbiamo anche sotto la dicitura scritta per cui io credo che queste siano carte che possono risultare molto molto utili a un principiante o a chi anche si sta si sta appassionando a chi magari ha voglia diciamo così di iniziare questo percorso questo questo cammino così così bello così affascinante attraverso un mazzo di carte che non che non che non richiedano diciamo eccessivo impegno ecco quindi io continuo sempre a consigliare le sibille a chi si approccia per la prima volta a questo a questo a questo a questo a questo mondo ecco quindi questa è la il mercante poi abbiamo la prigione come ripeto i disegni a mio parere sono anche in questo caso molto belli molto evocativi la morte limeneo il nemico viaggio la casa eccoci qua allora anche oggi vi ho diciamo così presentato uno dei miei tanti mazzi di sibille che mi accompagnano da da diversi anni con con estrema soddisfazione come sempre io vi saluto vi invito se vi piace quello che faccio ad iscrivervi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like che mi farà molto piacere non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video ciao ciao